Il principe, il marchese, la contessa, la contettina, scioppa la faccia vostra, oh, ma non è la mia, tu. Adesso c'è una cosa, credo c'è già trista la situazione, no? Poi se ne vede, io sto immaginando, Viraggio, mi sei stato io salendo le zucchine? Non mi ricordo, non mi ricordo, io mi faccio assaggiare le zucchine. Non mi ricordo, ma perché non me lo faccio? La passaggia, lo faccio pure, lo faccio vedere. Ma ci penso che c'hanno zucchine. Non ci sta? Buono, bello. Che lo dici? Di me c'è l'invidia, pure un po' saluto, ma te ne dico. Ma come l'invidia un po' saluto? C'è giù da ritirarlo, andando sul laboratorio, c'è una signora a fianco a me, magra, con fularine, tutta schifata così. Ma io che mi curo, che faccio palestra, guardate qua quante asterisca che mi sono uscite. E guardavo l'analisi a me. Signora, non conta proprio niente la fisica. A me mi sono sciuta il stellino perché tutto va bene. Ma tu hai capito?